Quest'anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale, a guardare al vero volto di Cristo Re, che risplende nella Pasqua e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa di Chiusura del Giubileo della Misericordia, in Piazza San Pietro, presenti più di 70.000 fedeli. Il Pontefice ha commentato il Vangelo di Luca sulla crocifissione di Gesù, Re, il cui trono è la croce e con la corona fatta di spine. Se crediamo che Gesù è Re dell'universo, dobbiamo accogliere anche il suo modo di regnare e non fare come il popolo al Calvario, che stava a vedere. Non rimanere alla finestra, piuttosto che avvicinarsi e farsi prossimi. E invece seguire la via di Gesù, di amore concreto. Non fare come chi gli rivolge la provocazione «salva te stesso», tentazione che è un attacco diretto all'amore. Quante volte, ha monito Papa Francesco, siamo stati tentati di scendere dalla croce. La forza dell'attrazione del potere e del successo è sembrata una via facile e rapida per diffondere il Vangelo, dimenticando in fretta come opera il Regno di Dio. Dobbiamo trovare il nostro orientamento, ha spiegato solo nella perenne e umile regalità di Gesù, quella che risplende nella Pasqua, e fare come il secondo malfattore sulla croce. Non si è chiuso in se stesso, ma con i suoi sbagli, i suoi peccati e i suoi guai, si è rivolto a Gesù, ha chiesto di essere ricordato e approvato la misericordia di Dio. Dio non ha memoria del peccato, ma di ciascuno di noi, i suoi figli amati, e crede che è sempre possibile ricominciare, rialzarsi. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione e del perdono, ma di sapere andare oltre il male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza. Come Dio crede in noi stessi infinitamente al di là dei nostri meriti, così anche noi siamo chiamati a diffondere speranza e a dare opportunità agli altri. Perché anche si chiude della porta santa, rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia, che è il cuore di Cristo. Dal costato squarciato dal risorto scaturiscono fino alla fine dei tempi la misericordia, la consolazione e la speranza. Dopo la preghiera dell'Angelus rivolta a Maria, madre di misericordia, il Papa ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito anche spiritualmente alla riuscita del Giubileo, che anziani e i malati che hanno offerto anche le loro sofferenze, specialmente le monache di clausura. Al termine della celebrazione Francesco ha firmato la lettera apostolica Misericordia et Misera, indirizzata a tutta la Chiesa, e l'ha consegnata da alcuni rappresentanti del popolo di Dio, dal Cardinal Tagle, arcivescovo di Manila, a due sacerdoti missionari della misericordia, da una coppia di giovani fidanzati a una persona con disabilità e una malata.